Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la gioielleria e orologeria Castignoli. E come sempre accanto a me Alessio Castignoli e soprattutto tantissimi gioielli. Intanto scusami ti aggiusto il microfono. Grazie Rosi. Così almeno vai. Ciao Rosi, ciao ben ritrovata, ben ritrovati a casa. Eccoci qua per la trasmissione dedicata al gioiello. Quindi abbiamo deciso di fare una trasmissione soltanto per la gioielleria, per accontentare quello che è il gusto e la donna in generale. Poi abbiamo anche gioielleria per l'uomo ma oggi ci dedichiamo solo a voi donne. Sì, ricordiamo, scusami Alessio se ti interrompo perché normalmente sono abituati e noi siamo abituati a vederti mentre presenti orologi, orologi importanti che comunque sono sempre qui e ci sono. Ma in questo momento vogliamo dedicare spazio al gioiello. Al gioiello. Siamo sempre qua via caro Alberto, numero 29 a Monza, in centro storico, zona ZTL. Attività storica dal 1962. Prima fu mio nonno, mio padre e poi io. Siamo sempre qua da 62 anni per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Oggi vi mostreremo dei prodotti, dei gioielli realizzati da noi, ma non solo, quindi anche da marchi di gioielleria che appunto noi siamo concessionari e poi dei gioielli antichi, d'epoca, vintage. Quindi io partirei con questa meravigliosa spilla, è una spilla degli anni 50, ti piace Rosy? Molto bella. La inclino leggermente per farvi vedere come brillano questi diamanti, perché sono veramente belli, cioè bianchi, puri, abbiamo una caratura molto importante. Adesso devo leggere che non ricordo tutti i nostri prodotti nello specifico. Quindi i diamanti sono FG, IF, quindi F color, G color, IF, quindi puri, abbiamo una caratura di 5 carati totale, sono taglio brillante, quindi dal diamante vi è stato tagliato taglio brillante e anche a baguette. Per il peso totale di 17 grammi di oro, quindi anche una certa importanza di oro, per il valore di 8.800 euro. Questa è una spilla, devo dire, di grandissimo gusto, un gioiello unico, realizzato in un pezzo solo. E qui per voi. Facciamo girare? Assolutamente sì. Nel frattempo io appunto cerco un altro prodotto da farvi vedere, continuerei con delle spille, sempre in diamanti, quindi abbiamo una lavorazione fantastica per questo prodotto. E adesso vi faccio vedere l'altra spilla. Anche questa è molto molto bella. Provate a immaginarla sul bavero del vostro cappotto, della giacca, sicuramente la renderà... La facciamo girare subito. Allora, quest'altra è una composizione floreale, è un fiore, un fiore con le sue foglie, ha una carottura meno importante, è un gioiello speciale. Fatto in un pezzo comunque anche questo. Quindi, quando poi voi vorrete vedere questi oggetti, o venite a trovarci in negozio... È bellissimo, guarda. Purtroppo dovete accontentarvi della mia maldestra. Comunque, allora, grammi 15 per un totale di caratura di un carato al prezzo di 2600 euro. Questa è una spilla fatta negli anni 60. Bellissimo, veramente è un oggetto strepitoso. Bene. Anni 60 vuol dire, naturalmente, come dicevamo prima, anche il vintage, e vuol dire anche che ritirate eventualmente in permuta... Quindi tiriamo in permuta i vostri gioielli, e quindi per dare il nostro gioiello potremo prendere in permuta il vostro gioiello, oppure anche dell'oro, quindi non soltanto il gioiello, e quindi sopravvalutandovi i vostri prodotti. Questa altra spilla è una spilla che diventa anche ciondolo. Ecco, ve lo faccio vedere. Ah, ecco. Se riesco. Molto bello, eh? Pezzo unico. Ha una lavorazione speciale, sembra... è traforata. È traforata, senta, infatti sto dicendo quello. Quindi abbiamo una caratura di diamanti notevole. Il numero è il 151, colore HBS1 di pietra, 16 grammi e 70 di oro bianco e giallo, oro 18 carati, chiaramente, un carato e 80 di diamanti. Ma se volessi abbinare un anello, per esempio, a questa spilla o ciondolo? E il prezzo di questa spilla è 4.400 euro. Perfetto, lo mettiamo di fianco. Abbiamo l'anello. Proprio il suo anello. Guardate che lavorazione, che traforatura. Tutto fatto a mano, naturalmente, da maestri orfi. Questo è il numero 146. Abbiamo una caratura di diamanti laterali 0,50 e il centrale, invece, ha una caratura superiore, naturalmente. 3.200 euro il prezzo di questo anello. Davvero molto, molto bello questa lavorazione così traforata. È unica, fatta a mano, tipo stile buccellati. Sì, sì. Tra l'altro abbiamo anche degli anelli buccellati. Sì, abbiamo degli anelli. Veramente, vi mostreremo delle cose speciali. Perfetto. Direi, appunto, di passare a... Finiamo con delle altre spille. Spille, ad esempio, questa è una spilla che vi mostro, una spilla con micro mosaico. Il micro mosaico è una collaborazione ad altissimo livello. Quindi, abbiamo un mosaico realizzato con delle pietre tagliate minuziosamente, ricreando questa lavorazione. Come i mosaici dell'antichità. Sì, sì, è super particolare. Beh, devo dire che io ne ho viste veramente poche. Sono anche, insomma, rare, rare, veramente. Oro 18 carati. Questo è un pezzo unico. E ha il valore di 1600 euro. Bella dimensione. È un gioiello unico. Nessun altro potrà dire di averne un altro uguale. La donna che indosserà questa avrà un qualcosa di unico. Un'altra spilla. Nell'altra trasmissione non ho fatto vedere le spille, e quindi ho pensato di... Ecco, qui abbiamo un dipinto. È proprio un dipinto. Dipinto su porcellana, cotta al forno. È una spilla della fine dell'Ottocento. Di grande dimensione. Notate appunto la dimensione tra le mie mani. Questa donna è veramente molto, molto, devo dire, molto bella e sorridente. Quindi è molto allegra anche. E in più abbiamo il ciondolo. Perché è una spilla ciondolo. Ve la faccio vedere anche dietro. Quindi tutto oro anche sul retro. Quindi doppio uso. Cioè un oro oppure spilla. Sì, sì, esatto, doppio uso. Anche questo è un pezzo unico, quindi quando... Però abbiamo un numero da darvi, così per essere anche più facilmente... Per reperire facilmente. Il numero è 144. Questa ha un prezzo di 1800 euro. Oro 18 carati, naturalmente. Passo adesso invece ai bracciali. Anche perché nell'altra trasmissione mi hanno fatti vedere pochi. E però passo a un bracciali, devo dire, molto particolare. Anche questa è una lavorazione traforata. È un bel ciare la schiava. È bellissimo. Ha una bella consistenza, un bel percepito. E devo dire che è un prodotto unico. Una lavorazione. Questa è una cosa fatta nei primi anni 2000, fin negli anni 90. Realizzata in un pezzo unico. Esatto. È al prezzo di 4.600 euro. Ve lo faccio vedere Gianni. È veramente molto molto bello. Anche questo traforato. Vedete queste lavorazioni. Nel frattempo che gira e che appunto le persone che sono davanti ai teleschermi si gustano questo spettacolo. Ricordiamo anche la possibilità, visto che presentiamo anche pezzi un pochino importanti, di effettuare dei finanziamenti. Tranquillamenti per l'acquisto. Quindi quando desiderate uno dei nostri oggetti potete contattarci e ci chiedete un finanziamento. Vi chiederemo poi appunto delle documentazioni, ma appunto lo facciamo volentieri. Assolutamente. E vengono spediti in tutta Italia. Tutti. Quindi anche se chiamate da lontano, non abbiate nessun tipo di timore, anche se qua su leggete Monza, se siete nei dintorni venite perché ne vale davvero la pena, anche di visitare questa bella città. Monza è molto carina. Quindi farete veramente una bella passeggiata, però se telefonate da lontano, se abitate lontano, chiamate e non c'è nessun tipo di problema. Ci teniamo che veniate a trovarci, anche perché vi facciamo vedere l'oggetto di persona. Lo imbossate, tu insomma. Però noi vi accontenteremo, vi spediremo questo oggetto in qualsiasi luogo che vi siate. E niente, sono convinto appunto di poter soddisfare le esigenze, i gusti di tutti. Sì, mi ricordo anche appunto ai maschietti di fare un regalo alla propria moglie ogni tanto, non solo per farci perdonare e non solo per Natale. Quindi può esserci un piccolo cadeau in qualsiasi giorno, chiaramente non tutti i giorni, perché sennò diventa un po' troppo impegnativo. Però sai che è bello quando non ti aspetti e arriva magari un regalo, insomma è anche qualcosa di bello, ecco. Ma anche una piccola cosa, un piccolo pensiero. Sì, assolutamente. Basta anche una rosa, eh? Io non vendo rose, però... Vendo gioielli, però comunque anche un piccolo pensiero ogni tanto è utile. Sì, mai fatto, assolutamente sì. Bene, adesso vi faccio vedere un altro bracciale. Passiamo adesso a qualcosa di più classico. Abbiamo qui un tennis, perché abbiamo sia gioielli particolari, come avete appunto potuto vedere, tra le spille, i bracciali, ma abbiamo anche dei tennis classici. Questo ha una bella caratura, il numero è il 72. Parliamo di un tennis da 7 carati e 99, quindi una caratura importante. Colore GVS1, quindi un ottimo colore e un'ottima purezza. Sì, perché dovete sapere che queste pietre sono calibrate, analizzate, certificate. Quindi, ecco, forse è il caso del Zaro, bravissima cosa. Magari per far vedere un po' di più la lucentezza dei diamanti. Simo, vuoi dire un secondo a indossare questo tennis? Grazie. Ve lo facciamo vedere al pulso. Ecco, grazie, Simona. Simona, naturalmente fa parte del tuo staff, di solito, in chiusura... Della famiglia Castignoli. Della famiglia Castignoli, ecco, diciamo la... Allora, questo tennis ha un prezzo di 13.500 euro. E posso assicurarvi che, montato da noi, naturalmente questo è un giugliello Castignoli, devo dire che ha un valore, un prezzo molto conveniente rispetto alla caratura e alla qualità che ha. Abbiamo tennis anche da prezzi inferiori. Poi potete vedere i nostri prodotti sul sito, Castignoli, giuglielleria Castignoli. Vi potremo mostrare i nostri prodotti dall'oro appeso, perché abbiamo anche... Vendiamo oro 18 carati, naturalmente solo 18 carati, non vendiamo oro titolo basso. Ecco, questo è un altro tennis. Quindi per accontentare anche un gusto diverso, meno classico. Questo possiamo chiamarlo rainbow, non proprio, perché comunque abbiamo, invece di il rainbow che ho mostrato nella precedente trasmissione, che abbiamo comunque ancora qua da mostrare eventualmente, sono tutti di zaffiri. Invece in questo caso abbiamo zaffiri, rubini e smeraldi. Taglio ovale con dei piccoli diamantini che, diciamo, sono tra una pietra e l'altra. Abbiamo... il numero è il numero 34. Il prezzo del tennis è 2.400 euro. Anche questo, devo dire che è molto, molto particolare. Indossato è stupendo. Simo, puoi venire un secondo ancora? Così facciamo valorizzare... Quando arriva la sima... Sta preparando altre cose. Sta preparando altri gioielli perché è un'ottima collaboratrice, infatti, proprio per questo. No, è indispensabile, Simo. Assolutamente. Eccola qua. Ti abbiamo fatto correre, Simo. Grazie, Simo. Scusami. Figurati. Eccoci. Ecco, che è indossato veramente a... È bellissimo. Ecco, dovete vedere tutti i colori. E il numero lo vedete, anche il prezzo lo vedete in sovraimpressione. Quindi chiamate, ecco, noi non lo diciamo mai, ma insomma è chiaro che potete chiamare e chiedere tutte le informazioni che volete. Se siete in orario di apertura negozio, ecco, se chiamate magari quando non sono aperti, magari troverete la segreteria o comunque... Beh, comunque possono anche chiamarci sul cellulare, non voglio il cellulare, perché comunque possono lasciare dei messaggi, possono scrivere sul nostro sito, quindi lasciare le richieste, possono acquistare direttamente dal sito anche. E qui abbiamo un bracciale molto particolare. Sono praticamente quattro tennis uniti. Cioè, è stato realizzato così, è un bracciale morbido, ma guardate, ve lo faccio... Che diventa poi, è un semirigido in sostanza. Veramente molto molto particolare, molto bello insomma. Diamanti, lo facciamo girare, se riesco a slegarlo, perfetto. E devo dire anche il numero. Non può girare così, quindi facciamo... Sì, dicevano di metterlo già chiuso, proviamo a metterlo. Questo è il numero 144, vediamo. Non abbiamo suggerimenti giustamente dai cameraman. Gianni, grazie. Però, devo dire che è utile cercare di fare il meglio per... E anche, siamo in una registrazione, però ci comportiamo come se fossimo in diretta. Noi, un po' di... qualche errore ci sta, sostanzialmente. Assolutamente sì. Possiamo nominare anche l'altro cameraman, Seb, visto che c'è. Insomma, eh, se no sembra che... Ciao, ciao amici cameraman. Assolutamente sì. Allora, questo ha il prezzo di 6.600 euro, è in oro 18 carati, oro bianco, con una bellissima caratura di diamanti. G color VVS1, quindi colore G, purezza VVS1, il numero è il 144. E quindi, questo è un bracciale unico, realizzato in un pezzo unico. Assolutamente sì. Visto che parliamo di, appunto, diamanti, di purezza, ci suggeriva prima Simona di far vedere anche questi pezzi che sono veramente importanti. Volevo concludere con i bracciali, però... Ah sì, concludi con i bracciali, se vuoi, sì, sì. Concludiamo con i bracciali. E dopo vi parlerò anche di certificazioni, quindi IG, certificazioni, perfetto. Qui abbiamo un bracciale, non avendo da... non posso appoggiarlo, tengo un mano io. Questo è un bracciale di epoca, con zaffiri, blu, e il numero è il numero 142. Diamanti, oro e zaffiri. Questo ha un prezzo di 2240 euro. Vediamo. Ah sì, giusto. Vediamo bene anche le pietre. Bene. Lo facciamo girare. Il consiglio è sempre quello, come dicevamo prima, Alessio, di venire, ecco, se riuscite, se siete qua in zona o semplicemente se venite anche da un po' lontano, venite a visitare Monza, perché no? Benissimo. E fate un giro. Vi accoglieremo con un grande piacere. Assolutamente. Vi faremo un caffè, un aperitivo, faremo due chiacchiere. Però sappiate appunto che noi spediamo già da anni in tutto il mondo, per quanto riguarda l'orologeria, ma anche la gioielleria. Quindi dal nostro sito potete acquistare, potete chiamarci e noi vi risponderemo. Potremo spedirvi il nostro prodotto, il nostro gioiello, in qualsiasi posto al mondo. E soprattutto, più facilmente, chiaramente in Italia. Vi facciamo vedere adesso questo. Passiamo agli orecchini. Va bene. Gli orecchini che, tra l'altro, ho mostrato poco la volta scorsa. Bene. Adesso vi faccio vedere due paia di orecchini. Abbiamo, in questo caso, nella caratura più grande, quella sotto, un prodotto certificato. In questo caso, IGI. Le pietre sono da un carato e 48 e un carato e 49. L'occhio umano non può percepire questa differenza, però chiaramente noi dichiariamo l'esatto peso. In più, posso dirvi che hanno un colore HI VVS2. La caratura è molto importante e anche, chiaramente, il costo, perché hanno un prezzo di 24.000 euro, questi due diamanti, che sono due orecchini e eventualmente, appunto, possono essere regalati a una signora, oppure possono essere anche poi eventualmente montati, se uno desidera, come regalo alle due figlie, fare due anelli solitari. Quindi, questo si può sempre fare. Quindi, un gioiello può essere venduto così com'è o trasformato. Ecco, li rimuovo per farvi vedere la luce interessa. Sono meravigliosi. E questi sono gioielli castignoli, perché voi realizzate gioielli anche su misura, su richiesta, insomma, quindi... Dunque, mi rivolgo appunto alle signore casa. Questi sono dei prodotti che noi certifichiamo, quando c'è la certificazione IG, dove siamo partner IG, e più mettiamo la nostra garanzia. Per quanto riguarda, invece, quelli sopra, più piccolini, ma sempre molto, molto belli, il numero è il numero 113. Sono due punti luce, due orecchini da 0,50 l'1, e sono certificati GIA, anche loro. Il colore è D-VS1, quindi qui abbiamo il top del colore, D-Color, che è anche una pietra d'investimento, si dice, appunto, così. Comunque, devo dire che l'importante è acquistare un prodotto di buona qualità, di ottima qualità, dichiarato, certificato, e a un giusto prezzo di mercato. Ma in questo caso vi posso dire che noi abbiamo dei prezzi molto, molto convenienti, perché montando noi personalmente non abbiamo bisogno di intermediari, quindi il prezzo è molto più buono. Questo è un prezzo di 7.800 euro. In questo caso non li facciamo girare, prepariamo un altro paio di orecchini, anzi, vi facciamo vedere questo genere di orecchini. Ne abbiamo per tutti i gusti, per tutti i colori rosi. Assolutamente sì, se avete un desiderio, una richiesta, sono sicura che qui troverete quello che state cercando. Non riusciamo a farvi vedere tutto nel corso della trasmissione, mandate a visitare il sito oppure venite qua personalmente. Anche perché voglio parlare un pochettino dell'oggetto, del gioiello singolarmente, senza, come dire, farvi vedere esageratamente cose che poi dopo non potrei descrivere. Quindi voglio anche cercare di farveli immaginare per come possono stare indossati. Quindi abbiamo degli orecchini con l'ametista in alto, dal prezzo di 490 euro. Abbiamo degli orecchini con diamantini e smeraldi da 580 euro. Per poi passare a qualcosa di più impegnativo, 2600 euro per questi che hanno una caratura di un carato e 20, in oro rosa. Molto bello, una montatura classica, sto parlando appunto di questi. E per quanto riguarda invece i peridoti, questi in fondo, montati sempre con diamanti, il verde, il verde del peridoto, due carati, due carati totali e al prezzo di, vediamo se riesco ad arrivarci, mi devo preparare prima, 2500 euro. Quindi abbiamo orecchini con diamanti, orecchini con altre pietre preziose, semipreziose e più importanti e meno, per accontentare un po' tutti i gusti. Passerei adesso a un qualcosa di, d'epoca, un anello con smeraldo e diamanti, con una costruzione veramente particolare. Che bello. Ogni tanto hanno delle forme davvero straordinarie. Sì. Questo, devo dire che, anche lui è realizzato in un pezzo unico, lo facciamo girare. Il numero è 143, abbiamo diamanti color F, il DS1 e la caratura dello smeraldo è di 3 carati e 60. Vedete la costruzione? Bellissimo. Sì, hanno queste, diciamo, ali centrali che poi vanno tutti a raccogliersi. Ad abbracciare la pietra. È un'opera d'arte, per quanto mi riguarda. 3.800 euro è il suo prezzo. Questa pietra è molto bella. Ecco, lo smeraldo è una delle pietre più belle, diciamo che anche rubino, diamante, ma lo smeraldo, in questo caso, ad esempio, guardate che purezza. E questo è un gioiello nuovo? No, questo è un gioiello degli anni 70, 80. Ma infatti ha il fascino del vintage comunque, non ero sicura. È per chi vuole qualcosa che ormai sul mercato non può più trovare, se non solo deve far fare apposta. Certo. Bellissimo. Bellissimo, ti ringrazio. Speriamo che piaccia a qualche nostra amica a casa. O anche al marito, che vuole desiderare fare una sorpresa. Eh sì. E che sorpresa, insomma. Continuiamo con gli smeraldi? Sì, assolutamente sì. Eccoci qua. Questa è un'altra montatura degli anni 50, in questo caso invece. La metto giù così per farvi vedere anche la parte sopra. E poi abbiamo la parte, vedete, l'altezza, no? Ve la voglio far vedere nel tutto tondo. Allora, questo costa 12.500 euro e uno smeraldo da due carati e venti, smeraldo naturale, naturalmente, punto. Scusate, perdonatemi il gioco di parole. Grammatura 7,30 e qui abbiamo appunto una garanzia di origine. Ecco. Sì, diciamo che Alessio, come abbiamo detto in inizio di trasmissione, perché l'aveste persa, comunque stai da 62 anni che siete in questo campo, prima tuo nonno, poi tuo papà, poi te. Me li porto bene? Li porti benissimo, direi. E comunque questo sicuramente è sinonimo di garanzia. Insomma, siete un negozio storico per quanto riguarda Monza e siete nel centro storico di Monza, quindi facilissimi da raggiungere. Venite qui, venite insomma anche a scegliere il vostro gioiello. I parcheggi ce ne sono, siamo in centro storico ma vicinissimi al parco di Monza, quindi che è un altro bel punto per farsi un giretto a Monza, non soltanto il centro ma anche il parco. Abbiamo anche la villa reale con Monza, il tesoro invece del duomo della regina Tegnolino, quindi ci sono un bel po' di luce carine e simpatiche per venire a trovarci. Allora, vi faccio vedere adesso un anello invece con un rubino. Gianni, ti ho messo in difficoltà, perfetto, mi diverto. Ecco, vedi qua. Questo è stato montato da noi, è una montatura Castignoli, vedi, oro rosa, con questi diamanti è una montatura che è una pietra ovale e quindi abbiamo pensato appunto di montarla così, un po' classica, però il rosa mi dà, ecco, è molto di moda adesso, mi piace molto. Il numero, questo è il numero 8, abbiamo diamanti per 0,20 punti di carato e un carato e 26 di rubino. Ok, perfetto. Ci tenevo anche a darvi tutte le specifiche per il prezzo di 2.400 euro. Facciamo girare. Assolutamente, nel frattempo sì, se ti prepari per l'altro anello. E volevo solo ricordare una cosa, il tempo della trasmissione non abbiamo troppo tempo da dedicare a ogni gioiello, cerchiamo, come diceva adesso, di farvi vedere il più possibile. Se vi fosse sfuggito qualcosa andate a cercare le trasmissioni anche su YouTube con Publi Rose, eccetera, oppure visitate il sito, così per trovare tutti i particolari. Allora, sul sito non è presente proprio tutto quello che abbiamo per questione di tempo, anche perché ogni prodotto noi cerchiamo di valorizzarlo al massimo e vediamo di comunque mettere quasi tutto sul sito. Ecco, questo è un altro anello. Questo anello non è un rubino, potrebbe sembrare vedendolo, è uno zaffir rosa. Questo è uno zaffir rosa e naturalmente per gli occhi non esperti sembra appunto un rubino. Bisogna invece dirlo, ecco, avrebbe un prezzo superiore se fosse un rubino. Lo zaffir è una bella pietra, però chiaramente non può costare come un rubino. Questo ha una bellissima caratura di diamanti, un bel pavè, come potete vedere su tutto il gambo. Sopra e di fianco, e addirittura i quattro lati della pietra. Abbiamo un numero 69 e il prezzo è di 2.900 euro. E lo facciamo girare, così i nostri clienti a casa, i nostri amici a casa, possono vederlo totalmente. Diamo un po' di tempo perché le cose vanno un po' gustate anche. Eh sì, devono avere il tempo di capire, intanto c'è scritto sempre il prezzo, il numero, quindi scrivete il numero. Se volete guardare tutta la trasmissione non perde il tempo, abbiate sempre un foglietto lì vicino per scrivere tutti i numeri degli oggetti, dei gioielli che vi interessano di più e poi potete chiamare e chiedere informazioni. Continuiamo con gli anelli. E passiamo però, ritorniamo allo smirando. Questa è una montatura fatta, realizzata da noi. È un gioiello Castiglione. È un cuore? È un cuore, sì. Sì? Con diamanti, però in questo caso, come ho mostrato nella precedente trasmissione, abbiamo una montatura Eternelle. Quindi tutto il gambo, e lo vedete fa poco, mentre farò girare l'anello, è tutto il gambo di diamanti. Allora, questo è il numero, vediamo se c'è, no, non c'è il numero in questo caso, però è l'unico smeraldo a cuore che vi mostrerò oggi. E costa 9.400 euro. La caratura dello smeraldo è molto importante. E quindi, dunque, vediamo se riesco esattamente a darvi la caratura dello smeraldo. Allora, il colore del diamante è Fcolor VVS1. Il cuore di smeraldo ha una caratura all'incirca di, siamo sui quattro carati qua. Esatto. Fcolor 9.400 euro, ve lo facciamo vedere, lo facciamo girare. Ecco, vi ricordiamo che comunque tu hai qua un laboratorio di gemologia, insomma, hai una persona, poi lo vedremo anche in chiusura di trasmissione, che si occupa di un perito gemologo. Mi aiuta per fare le perizie, per valutare i vostri oggetti, quando appunto ci volete portare qualcosa di vostro da permutare, o anche noi acquistiamo quindi da privato, non soltanto permutiamo. Anche da valutare, magari un'eredità adesso, anche solo da valutare. Facciamo queste valutazioni, io vi lascio una descrizione, una certificazione di quello che dico, e in più possiamo addirittura periziare e valutare le vostre pietre, oppure possiamo portare le vostre pietre, dato che siamo partner IGI, possiamo portare le pietre all'IGI con uno sconto naturalmente, del quale usufruirete anche voi amici a casa, per dare un servizio a tutto tondo, completo. Allora, in questo caso abbiamo finito, vi faccio vedere un anello montato sempre da noi, un anello Castignoli. Questo è un anello con pietre Marchese, che sembra un'Eternelle, perché sono molte, arrivano a coprire tutto il dito. Il numero è il numero 6 e l'anello costa 1800 euro. Abbiamo una bella caratura di diamanti e un colore HVS1. Questo è un anello molto particolare. Per farlo vedere bene, lo mettiamo così. Ecco, sì, per far vedere proprio il taglio. Taglio Marchese. È un taglio, possiamo dire, occhio? Sembrano gli occhi. Ecco. Questo deve essere visto e indossato, perché è fantastico. Ve lo faccio girare. Via. Davvero splendido, sia come lucentezza, sia come taglio. Mi piace in modo particolare. Ma questo è veramente venutamente... Quindi è un po' originale, più originale. Io avevo queste pietre, nella cartina, perché le abbiamo acquistate, e ho pensato, ma di solito si usano per fare delle composizioni floreali, tipo cestini, cose così. Invece ho detto, no, per quel motivo. Queste sono molto belle. Secondo me faremo un anello particolare, unico, e di fatti è venuto fuori un bel prodotto. E sono molto contento. Il prezzo, l'ho detto. Sì, 1800 euro. Perfetto. Adesso vi posso mostrare un classico, solitario. appena finito il giro. Anzi, possiamo che interrompere qua. E vi mostro questo solitario. In oro rosa. Un classico. Un classico montato sempre da noi. oro rosa, con diamanti ai latini. Il numero è il numero 27, colore HVVS1. e il prezzo, è un prezzo decisamente ottimo. 1400 euro. Il solitario, sì, è 0,35, scusami, Rosi, si è intorno. No, vai, vai. 0,35 è la pietra centrale, più abbiamo 0,15 laterali. In totale 0,45. E devo dire, con questa qualità, penso che abbia un prezzo molto buono, e sono molto contento di questo prodotto. Vi mostro adesso uno zaffiro. Ecco. Uno tanzanite, scusatemi. Perché avevo di fianco anche uno zaffiro, così. Questa è una tanzanite. Ecco, vedete la differenza tra uno zaffiro e una tanzanite. Questo è il numero 81, intanto. Vediamo. Poi abbiamo un'altra tanzanite da farlo a mostrarvi, e uno zaffiro, però degli anni 50, in questo caso. Allora, numero 81, al prezzo di 3.290 euro, diamanti colore F, VVS1. Ecco, la tanzanite si differenzia dallo zaffiro perché tende al violaceo. È un bellissimo colore, veramente particolare. Io la adoro. mi amo veramente la tanzanite, perché secondo me dà una luce particolare, in più magari anche, qui non abbiamo delle luci eccezionali, bisognerebbe vedere la luce del sole, come ogni gioiello, in realtà. Però, comunque, ve lo mostriamo così. Facciamo girare, oro bianco, la messa in misura è sempre compresa del prezzo. questo è un prodotto classico, nuovissimo, ma, appunto, la tanzanite si presta molto al taglio moderno e al taglio classico. Poi abbiamo anche degli orecchini, tanzanite, quadrati, insomma, un po' di tutto. Vi faccio vedere adesso un'altra tanzanite più piccolina, un gioiellino, giusto appunto. eccoci. Vi faccio vedere quest'altra, in or rosa, perché sta molto, molto bene anche in or rosa, la tanzanite. Una tanzanite da un carato E31 con diamanti sempre F VVS1 carati 0,28 il numero è il 56 ricordatevi il numero per poter poi per notare l'oggetto. Questo ha un prezzo di 1950 euro. È un anello stupendo. Oro rosa. Bene. Sono convinto di poter soddisfare il gusto di una signora qua a casa. Ecco. Adesso vi faccio vedere un altro prodotto. È un anello d'epoca. Vedete, la stessa montatura classica ma su un anello d'epoca. Quindi uno zaffiro come si usavano negli anni 50. Quindi più scuro. Sembra quasi nero. Degli zaffiri che vengono utilizzati oggi senza nessun tipo di trattamento perché una volta appunto non venivano fatti su queste pietre. È un 4 carati con contorno di diamanti da 1 carato e 20 di bella qualità e il numero è 59 al prezzo di 3.400 euro. Guardate come è montato. Sì. È da principessa. È una grande dimensione quindi non è l'importante. Sì, davvero vi consiglio di venire a vederli dal vivo perché io li guardo nel monitor e sicuramente li vedete molto bene anche a casa però insomma avrete la possibilità di indossarlo sì assolutamente la cosa migliore è proprio quella di indossarlo vediamo si sta un po' largo forse questo è bellissimo così mi dicevi tu molto molto scuro è molto particolare naturalmente bene bene frattempo e come stavo facendo vedere ancora l'anello indossato da Simo vi sto preparando un altro anello un trilogio su questo hai già detto il numero sì sicuramente vogliamo ripeterlo? 59 aspetta che lo leggo numero 59 sì e 3.400 euro era il prezzo grazie bene questo è un trilogy di smeraldi e diamanti il numero 85 è un particolare è come se fossero tre classici solitari di smeraldo col contornino invece montato a 3 veramente è un bel effetto quindi numero 85 abbiamo brillanti per la caratura di 0,60 e invece smeraldi per la caratura di 1 carato e 40 perfetto ve lo faccio vedere così e poi e poi adesso lo facciamo girare numero 85 al prezzo di 400 quasi vorrei poterlo 400 vorrei veramente firmo subito lo prendo subito io Alessio 4585 euro orno 100 carati nuovissimo classico vedo vedo veramente degli oggetti ricordati che abbiamo i buccellati e abbiamo anche quel bel con gli stile tennis abbiamo tantissime cose non so se riusciremo a farvi vedere tutto ma vediamo facciamo vedere intanto gli orecchini di Boucheron Boucheron ecco di qua che insomma diciamo vengono realizzati appunto in Francia in Place Vendon in Place Vendon in Francia ecco li mostriamo subito vediamo se rendono così se non dobbiamo alzare li dobbiamo alzare si direi che guardate questa cascata di davanti sono molto belli sono molto belli e devo dire sì sono molto importanti come caratura la particolarità di questi orecchini oltre al design unico e loro quindi di Boucheron è che le gocce che vedete muoversi sono degli amanti forati cioè queste hanno lavorazione loro soltanto loro li faccio muovere per farli capire inquadri già di sopra in totale sono importanti e devo dire questi metti questo gioiello metti questo orecchino non metti nient'altro non metti nient'altro certo ti valorizza qualunque acconciatura qualunque vestito vestito bisogna metterlo però ecco non ti devo dire direi beh dipende adesso dalle occasioni ma direi che il vestito va indossato con la scatola la garanzia di origine ok quindi li riponiamo e mostriamo la scatola dei nostri anelli nel frattempo prima mostriamo questo così almeno non lasciamo l'inquadratura vuota che mi era stato ricordato non devi lasciare l'inquadratura vuota invece l'ho fatto va bene questo è un pomellato è un anello pomellato un grande fascione importante con diamanti è il numero 93 al prezzo di 4800 euro lo facciamo girare si almeno si vede veramente l'importanza come se fossero uno due tre quattro anelli tre anelli tre anelli con i diamanti quindi abbiamo la classica firma pomellato quando gira sul satinato lo vedete un anello importante per un dito importante chiaramente in questo caso ad esempio ci vuole la misura giusta o possiamo modificarlo ma appena appena ecco lì la firma pomellato lasciamo lì un attimo quindi ti ringrazio rosi questo è un anello che parla da solo il pomellato è riconosciuto in tutto il mondo è un gioiello realizzato con grande cura con dei bellissimi diamanti e ha un prezzo molto buono rispetto al suo listino iniziale quindi adesso togliamo questo vi mostro velocemente semplicemente così una scatola qui abbiamo purtroppo mi chiedo scusa per tutti i cartellini che non sono belli di tutti questi lavorazioni buccellati e adesso ne prendiamo uno tieno secondo la scatola così ci penso io metterlo su grazie e ve lo facciamo vedere perfetto eccolo qua questi anelli sono tutti realizzati a mano sì come tutti gli altri però con una finitura addirittura superiore di molti anelli è una lavorazione scheletrata e incisa bulinata a mano quindi non soltanto una fusione perché l'anello viene realizzato con una fusione giusto ma poi viene rifinito a mano con delle cesellature il numero è 147 e quindi abbiamo un centrale diamante da 0,80 colore GVS1 una grammatura sempre in oro 18 carati chiaramente oro bianco e oro giallo al prezzo di 6.000 euro più abbiamo tutti i diamanti ecco facciamo così per vedere anche sopra e adesso lo faccio girare vorrei avere più tempo per mostrarvi questo anello chiaro che solitamente prima di fare questa trasmissione io ecco tutti i giorni mostro i gioielli alle mie clienti qua in negozio io e il mio staff e chiaramente ho la possibilità di vederli indossati di spiegarli guardando degli occhi di una persona il nostro amico cliente sto cercando di fare del mio meglio per farvi arrivare la bellezza di questi oggetti e in questo caso è devo dire una lavorazione strepitosa gli altri bellissimi questo ha addirittura qualcosa in più vediamo gli altri no grazie Rosi viene preparati la Rosi per fortuna vi mostro un anello realizzato da Tagliabue Tagliabue è un orafo famoso che ha lavorato per buccellati questo è il numero 148 abbiamo dei diamanti più piccoli di quello che vi ho mostrato prima con una lavorazione veramente fantastica non so potrebbero dire a tombolo sì 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 perché ricordano un po' i merletti i tomboli i traforati sì sì assolutamente quindi numero 148 al prezzo di 2000 euro un anello firmato Tagliabue è veramente un prezzo meraviglioso è firmato proprio all'interno quindi facciamo girare la lavorazione traforata è sopra quindi qua in questo caso si può addirittura pensare di metterlo in misura sempre compreso nel prezzo quindi vi esorto a chiedere a telefonare a chiedere altre informazioni se volete vi mandiamo delle foto video non ci sono problemi lo facciamo abitualmente con gli orlogi e i gioielli possiamo spedire a casa vostra questo oggetto ve lo potrete visionare e se rispecchia quello che abbiamo detto appunto ve lo terrete con piacere ah ecco hai detto fate anche i video beh questo mi sembra importante insomma chiamate se volete avere qualche particolare in più o un video un po' più lungo non abbiamo più vita privata sono a vostra disposizione sempre video telefonate 24 però almeno la notte dai a dormire però possono mandare dei messaggi che verranno poi memorizzati e il giorno dopo chiameremo vi faremo facciamo vedere adesso quest'altro anello sempre lavorazione a buccellati questo è il numero 147 abbiamo un anello con rubino il prezzo è di 2600 euro guardate sempre lavorazione a merletto si si sono bellissimi questo è speciale particolarissimo è raffinato una lavorazione minuziosa proprio minuziosa lo facciamo girare oro 18 carati oro bianco oro giallo gente rotta no no dicevo che appunto facendolo girare potete veramente cogliere tutti i particolari sul vostro teleschermo insomma che noi lo vediamo su un piccolo monitor ma vedo già che si vedono tutti i particolari non accontentatevi chiamate per avere altre informazioni altri video venite qui a provare a indossare provate a pensare indossato quanto è valorizzato quello che non si è capito quello che non ho detto non c'è problema chiamateci e noi vi risponderemo vabbè o dico dei numeri apposta perché comunque possiate farci capire quello che volete poi vedere questo è un altro anello più particolare semplice tra virgolette nel senso che è un po' meno traforato però sempre la variazione buccellati con questi cuori di smeraldo e diamanti smeraldi e diamanti cuori e quadri sembrano quasi cioè i quadri non sono sia le losanghe comunque vediamo se abbiamo il prezzo per il prezzo di 1500 euro oro 18 carati lavorato a mano con diamanti smeraldi lavorazione a mano fatta in maniera eccelsa oggetto unico sono convinto che chi potrà indossare questo anello non se lo toglierà più dal dito dunque vi voglio mostrare adesso qualche coglia grazie penso io a toglierlo così vediamo Gianni vediamo come te la cavi adesso questo lo muovo io per far vedere così bene questo è il numero 25 un coglia in oro bianco 18 carati la caratura dei diamanti è 18 18 carati il colore H VVS1 e a questa al prezzo di 20.000 euro immaginate 18 carati di diamanti di ottima qualità con un peso dell'oro notevole devo dire appunto vi sto presentando un prodotto di altissimo livello classico forse non potremo mettere tutti i giorni però veramente un gioiello che quando verrà indossato da una signora farà darà una luce direi a colei che ha già luce sei poeta poetico voglio dire che il gioiello più bello della signora che lo indosserà non è giusto dire questo però può dar luce infatti assolutamente bene ricordati poi di allora si abbiamo l'altro poi anche quello che indosso io che è molto bello allora prima il tuo prima la rosi bene qui abbiamo quello che sta indossando la rosi dobbiamo spostare questo si lo spostiamo perché ti sta offuscando la rosi questo no mi sta coprendo allora dunque la rosi sta indossando un collier con una catena molto semplice può essere utilizzata come un ciondolo in sostanza un ciondolo di diamanti un zaffero il numero è il numero 60 perfetto con un pavè di diamanti e da il prezzo non lo ricordo più rosi però vai vai guardare 60 è il mio anno di nascita quindi guarda 60 è il mio anno di nascita e il prezzo quindi è per me non lo potremo lo avremo sì tra poco lo abbiamo 2400 euro catenina e ciondolo compreso uno zaffero da circa un carato e mezzo con un pavè di diamanti notevole G color quindi anche qui abbiamo un prezzo imbattibile vi permetto di dirlo non sono un imbonitore e lo capirete poi vedendomi successivamente seguendomi ancora vi faccio vedere adesso rosi grazie mille intanto figurati tu impreziosisci quel gioiello grazie non abbiamo più molto tempo adesso vuoi far vedere il laboratorio come sempre io vado oltre sforo sempre hai tanto da far vedere allora il colliere di rubini e diamanti il numero è il numero 31 e bracciale e bracciale con rubini e diamanti ed è il numero 38 il bracciale al prezzo di 4000 euro e il colliere invece al prezzo di 8000 euro quindi a questo punto direi vi mostro un altro colliere perché è necessario visto che è qualcosa di particolare chiedo scusa per la velocità meriterebbe di potersi vedere con più calmo però la prossima trasmissione va bene allora questo è un colliere di pomellato una linea che non è più in produzione quindi potete trovarlo qua da noi non potete più trovarlo in vendita nuovo il numero 97 è pieno vuol dire mi sto riferendo al peso qui abbiamo delle maglie piene il peso è notevole e il prezzo di questo colliere è di 11600 euro e il suo peso ve lo voglio dire 96 grammi di oro quindi molto interessante un colliere importante di pomellato bene adesso direi di dare la parola ah no tu avevi ancora degli orecchini dai facciamo vedere facciamo vedere qualche orecchino magari accorciamo un po' la signora che vuole andare al teatro o per un evento particolare un matrimonio piuttosto che insomma qualcosa di speciale questo è il numero 149 sono orecchini con una caratura notevole e il prezzo è di 6.800 euro sono Gcolor VVS1 guardate che meraviglia adesso facciamo vedere Namuri il momento Namuri abbiamo dei gioielli in oro rosa oro bianco e oro giallo sono dei fascioni degli anelli pavè di diamanti devo dire un un'elaborazione straordinaria dove la pietra viene proprio proprio risaltata e anche quindi la mano e il dito della signora che lo indosserà della donna che lo indosserà sono bellissimi ti ringrazio Rosi il primo in oro rosa ha un prezzo di 7.498 euro il centrale in oro bianco di 6.198 e quello in oro giallo che è un pochettino più piccolo 4.798 euro li mandiamo a girare anche loro ecco ricordiamo che è un marchio un marchio un marchio che abbiamo da un po' di tempo e cerchiamo appunto di farlo conoscere appunto ai nostri clienti ma anche agli altri potenziali futuri clienti vi voglio mostrare poi concludiamo con la giuilleria e andiamo su il laboratorio bene vi mostro questo bellissimo bracciale a grumette con diamanti questo ha un prezzo di 3.298 euro oro 18 carati guardate che meraviglia bene il suo collier con c'è sopra anche un altro collier ma in questo caso vi mostro ecco il collierino è questo 1298 euro il suo prezzo bene questa lavorazione avete una stregni da fare questa è una piccola parte di Namuri che noi abbiamo e quindi ci tengo però ci tenevo a mostrarla benissimo allora io direi che possiamo andare nel nostro laboratorio di gemmologia per spiegarvi qualcosina qualcosa di particolare eccoci amici adesso siamo in laboratorio per analizzare qualche pietra e farvi vedere qual è il nostro lavoro vi presento Massimo buongiorno a tutti laureato scusami in geologia e perito in preziosi della camera di commercio del tribunale di Milano esatto illustraci il tuo lavoro allora qui abbiamo il laboratorio è un laboratorio di gemmologia classico ma completo abbiamo il microscopio che serve per vedere i diamanti e le caratteristiche delle pietre di colore un microscopio professionale abbiamo il polariscopio e il rifrattometro che servono per vedere le pietre di colore abbiamo questi strumenti che sono utilizzati anche nelle cassette di sicurezza per l'eredità l'essio eccetera per vedere se un diamante è un diamante sintetico oppure o un'imitazione tipo la Movisanite che adesso sono molto molto presenti purtroppo sul mercato e poi per vedere le caratteristiche di una pietra stessa quindi di un diamante attraverso le pietre di paragone un lavoro che ci consente di dare una certificazione mia personale e poi del negozio quindi due certificazioni ai clienti oltre poi anche alle certificazioni di cui tu hai parlato perché sei un partner dell'Igi Istituto Gemologico Italiano che è il numero uno d'Italia e questo ti dà una garanzia ulteriore dai una garanzia ulteriore ai clienti sulla tua professionalità e sulla completezza del nostro ambiente facciamo del nostro meglio facciamo del nostro meglio qui ad esempio oggi per farvi un esempio ho una pietra che Alessio mi ha portato da due carati una pietra interessante per vedere adesso sto guardando il colore di questa pietra e poi dopo mi metterò ad esaminare invece un bellissimo rubino che prendo qui con le pinze che vedete un rubino molto bello grande quindi i rubini sono molto ricercati le pietre di colore in questi ultimi anni un po' più dei diamanti bisogna dirlo e questa la guarderemo ovviamente guardate che meraviglia di cui guarderemo col microscopio per vederne le caratteristiche e poi la faremo certificare addirittura a Goebelin che è il laboratorio numero uno bene adesso dopo aver prima visionato il diamante poi il rubino volevo dirvi e ricordarvi che noi eseguiamo perizie anche per eredità potete chiamarci per perizie da svolgere anche nei cavò delle banche piuttosto che a casa potete venire direttamente da noi quindi vi faremo una perizia sia per voi se vi serve o per divisione ereditaria o anche per acquisto adesso in questo momento direi che abbiamo concluso e andiamo giù sotto da Rosi che ci sta aspettando anche questa volta siamo arrivati al termine grazie Rosi grazie a voi a casa e niente vi aspettiamo qui in negozio se vi fosse mancata qualche informazione chiamateci guardate il sito telefonateci e noi saremo pronti a rispondere a qualsiasi domanda ciao grazie Alessio e ciao a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti